Buongiorno a tutti quanti, siamo qui per il nostro quattordicesimo giorno di 21, ok? Ieri c'era una festa della mia figlia, abbiamo tutto il feliz cumpleaños qui in Spagna e adesso passiamo al nostro semplicissimo, classicissimo punto vita, mani giù, destra e sinistra voglio sapere come sta andando il vostro challenge. Allora, mi iscrivete, oh, aspetta, facciamo un po' di cuori prima perché lo sai che mi piace mandarvi cuori poi di cuori e partiamo con il nostro domenale tesi. Allora, prima regola di questo challenge perché siamo al quattordicesimo giorno vuol dire che ci sono quattordici allenamenti dedicati a voi per fare queste tre settimane di punto vita e tutto quello che voi dovete fare è misurarvi punto vita, numero uno. Dopodiché andiamo a fare questi cinque minuti ogni giorno e non è un allenamento perché diversi minuti quindi dico, ah, quante ripetizioni devo fare? Si chiamano live to tape, vuol dire che fai l'allenamento che ti faccio, lo fai con me, sono più o meno cinque minuti di lavoro, lo facciamo per la bellezza di tre settimane e tutti questi video sono sulle mie baccheca, così se voi volete diciamo condividere sulla vostra baccheca o darmi una like, vi ringrazio, mi date un like però l'altra cosa è che ce l'hai lì e lo fai per 21 giorni. Che cosa succederà in questi 21 giorni? Avrete un punto vita più snello, più scolpito e vedrai che con poco allenamento avrai un risultato perché lo faccio con punto vita perché la parte del tuo corpo permette all'allenatore più facile di darti immediatamente un risultato visibile vedrai un risultato. Con quel risultato io immagino, proprio io penso che tu avrai la voglia di continuare la voglia di affrontare ogni giorno questi allenamenti per avere i risultati. dai, ok cominciamo a sollevare il braccio, solleviamo il gomito scendendo destra e sinistra gli addominali ovviamente sono tesissimi. Noterete che sono vestita in un costume da bagno che questi sono un costume da bagno sportivo perché io sto per andare in mare perché ci sono onde in baglia tante onde in baglia, non vedo l'ora, sono mesi. L'ottima volta che sono entrata in baglia era sotto la prima settimana di gennaio, così gennaio, terbaio, marzo, siamo quasi a tre mesi che non sono nel mare e così non vedo l'ora di andare a farmi un paio di onde perché oggi c'è troppo vento, non c'è onda c'è tutte le condizioni perfette così. Faccio cinque minuti con voi, poi vado a fare il mio sport acquatico poi lavoro e poi mi metterò sicuramente a fare il mio allenamento un pomeriggio Oh, un pomeriggio oggi su Super Jump un popolo che salta troverete Arianna Tanzini che farà una bella lezione di Super Jump perché ricordate, noi abbiamo sempre queste lezioni gratuite una volta a settimana di 30 minuti se volete allenarvi Ok, adesso, piccola torsione di busto, niente di che busto, busto, busto tiro, 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 facciamo questi cinque minuti insieme perché poi alla fine vi faccio anche vedere che questi esercizi potresti fare anche in ufficio non ti fanno sudare, assolutamente, non fanno dolore, non sentirai acido lattico facendo questi movimenti, puoi anche toccarti il fianco, tocca il fianco, tocca il fianco così siete sicuri che state facendo la torsione Allora, ciao, non ho ricevuto il challenge di ieri, l'ho cercato però non l'ho trovato Marisa era il compleanno da mia figlia Scusatemi, lo so che sembra passo ma ogni tanto anch'io prendo un giorno di riposo perché ero in viaggio per venire a Fuerteventura e ho finito, grande fratello, molto tardi, dormito due ore e mi sono travasato su un aereo per venire a festeggiare mia figlia così non c'era il challenge di ieri, stai tranquilla e andiamo avanti l'altro ieri era il tredicesimo e oggi proseguiamo con il quattordicesimo infatti sono, ho detto Alessandra andiamo in mare insieme e ho detto no, procedi tu, ti raggiungo perché i miei amici aspettano i nostri cinque minuti continuiamo, lo sapete che vi voglio bene ragazzi oh, l'altra cosa è su, diciamo, il mio sito gilcuber.it troverete una sezione che si chiama Informa con Jill Informa con Jill trovate tanti tanti allenamenti, tanti tanti consigli, tanti tanti webinar destra e sinistra, boom, anche cose che sono molto all'avanguardia io uso digiuno e intermettenza da quasi otto anni adesso, da 2016 ho cominciato con digiuno e intermettenza siamo a 2024 e adesso si sente parlare tanto di digiuno e intermettenza ma sono anni che lo uso poi parleremo di antienvecchiamento, sonno, microbioma, metabolismo e come ridurre l'infiammazione nel corpo si chiama In-Fa-Fla-Maging che ti fa comunque invecchiare più velocemente e lo facciamo tutti insieme per avere più energia e anche invecchiare bene perché non è una questione di essere, cioè non stiamo provando di sembrare un ventenne stiamo provando di rimanere flessibili, mobili, energici, pronti per avere tanta forza per affrontare le faccende di casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop c'è qualche esercizio per la schiena? Allora Laura, in pratica questo è anche per la schiena grazie Marisa per la comprensione del fatto che ieri ho avuto una giornata diciamo dedicata alla mia famiglia sono qui a Fuerteventura, sarò qui per un po' di settimane e vi dedicherò anche dei spazi di mozzafiato qua perché c'è il sole, un cielo a terzo come potete vedere, un blu pazzesco, mare fantastico però oggi vado adesso a scappare il mare a surfare perché il mare mi manca da morire è una bella sciacquone energetico del mare dell'Atlantico e vi auguro a tutti quanti una giornata meravigliosa vi ridò un po' di cuori, vediamo se riesco a mandarvi i cuori salvate questo video, condividete questo video, mandatemi i cuorecini io voglio un sacco di bene, ci vediamo più o meno verso l'una per parlare di live perché abbiamo live, parleremo di live shopping, parleremo di bellezza e parleremo di salute baci dalla gym, buona giornata a tutti